Ci sono dei romanzi sulla guerra, pochi in Italia, non c'è un romanzo come Il fuoco in Francia, non c'è un romanzo come All'Ovest, niente di nuovo, direi anche in Germania, ci sono pochi romanzi, il primo esce nel 1921 e lo scrive Giuseppe Antonio Borgese, si intitola Roubaix, chi è Roubaix? Roubaix è un avvocato siciliano che partecipa da volontario alla guerra, perché? Poi dice io non voglio che la mia esistenza si consumi in un ufficio polveroso, voglio dare un significato alla mia vita, voglio mostrare che gli intellettuali sanno anche essere attivi. Questo è un tema che aveva già trattato Serra, Renato Serra, nell'esame di coscienza di un letterato. E allora ecco che Roubaix parte per la guerra, però è un pavido, è un uomo, diremmo un inetto, anticipando Svevo. Un inetto perché non ha coraggio, si apparta dalle situazioni complesse, poi avrà una fine tragica anche lui. Questo è il primo romanzo sulla guerra. Il secondo romanzo è di Mario Cuccini ed esce nel 1927, è un romanzo molto singolare, si intitola Cola il ritratto di un italiano. Cola, è un soldato, è il protagonista. Ma che soldato è? È un soldato che non ha nulla di eroico. È un soldato che quando una mattina si sveglia in un ospedale e si scopre di aver perso un braccio, esclama, mi metterei a ballare dalla gioia, perché torno a casa mia, vivo, certo, senza un braccio, ma se penso a quanti miei compagni non torneranno più. E poi mia moglie sarà contenta di me, perché gli porto la pensione di guerra, la nostra vita cambia, migliora. Ecco chi era, un soldato. Siamo nel 1927. E insomma, il fascismo non ama questo genere di soldati. E allora cosa fa Cuccini? Cuccini scrive una dedica al duce e dice al duce che con la materia sorda e restia dei Cola ha saputo plasmare il nuovo italiano. Che bello espediente, eh? Però il soldato italiano era come Cola. Il soldato italiano era come quello raccontato da Hemingway, addio alle armi e non per nulla Hemingway e sarà messo all'indice dal fascismo. Ecco, però il romanzo ci presentava questo protagonista. E allora viene fuori un'altra osservazione che dovremmo fare. Cioè la grande guerra nei romanzi c'entra fino a un certo punto. Vi ho indicato questi due perché credo che siano i migliori. La grande guerra però è anche nella coscienza di Zeno. Nelle ultime pagine Zeno Cosini che cosa fa? Di fronte alla guerra che vive come un fastidio e non poteva viverla diversamente e la vede come l'estrema manifestazione della malattia del progresso. La guerra è il progresso. Ma è un progresso nefando. E allora auspica che un omino o chialuto riesca a inventare un ordigno da far esplodere nel centro della Terra per ricreare l'umanità. Naturalmente molti hanno anticipato l'esplosione dell'atomica in questa immagine però è la guerra vista come la malattia del progresso. E allora dovremmo ricordarci che invece qualcuno, prima dell'inizio della guerra, aveva proclamato che la guerra era la sola igiene del mondo. Cioè Marinetti, futuristi. Marinetti. Marinetti scrive un romanzo, anche lui, e si intitola L'alcova di acciaio. Cosa sarà questa alcova di acciaio? Un'autoblinda. Naturalmente. Cosa può amare un soldato guerrafondaio se non la sua autoblinda? È un romanzo futurista, è un romanzo che leggiamo forse anche divertendoci un poco ma forse non ci possiamo divertire del tutto pensando che Marinetti è stato tra coloro che hanno spinto per l'interventismo. Ecco dunque, 21 è un anno cruciale. Esce Roubaix, esce, come vi ho detto adesso, il libro di Marinetti, esce il libro di un certo Eric Suchert, che poi si chiamerà Curzio Malaparte. E questo libro si intitola Viva Caporetto! Come? Viva Caporetto, che è stata la più grande disfatta. E Malaparte dà un'interpretazione sua a questa vicenda militare dicendo che è stata la ribellione del proletariato, dei soldati che hanno in qualche modo voluto rivendicare il proprio diritto a scegliere. Vi ricordate quel buttato di Ungaretti? Il soldato non deve essere buttato, il soldato deve ribellarsi e allora Caporetto è la sua conseguenza ed è in parte anche attendibile. Però questo titolo, Viva Caporetto, era troppo provocatorio per passare inosservato, tant'è vero che poi il libro sarà ripubblicato col titolo La rivolta dei Santi Maledetti. Nel 21 esce anche uno dei più bei diari di guerra, Le scarpe al sole, scritto da Paolo Monelli. Monelli era un giornalista, poi diventerà un grande giornalista italiano, che in questo libro usa il gergo militare. Le scarpe al sole significava la morte del soldato, rimanevano le sue scarpe esposte al sole. È un libro però abbastanza scansonato, direi, anche se questa parola vi può sembrare inopportuna per il racconto della guerra. Scansonato perché? Perché si cerca di prendere della vita militare anche gli aspetti positivi e quello era l'aspetto positivo. La guerra aveva reso gli italiani fratelli in qualche modo. Quello che fino allora non era accaduto era successo perché dal nord al sud erano giunti dei giovani che avevano lo stesso obiettivo, quello di combattere una guerra che magari non sapevano neanche per quale ragione era combattuta.